È stata all'epoca dei due anni fa a Palazzo Ducale una bellissima serata e stasera, devo dire la verità, è impressionante la quantità di persone che ci sono e l'organizzazione. 20 anni di attività di Angelo che è una carissima persona legata a noi già dai tempi passati perché condividiamo un qualcosa che è diverso dallo shipping, è un legame profondo nell'entroterra Ligure che è la Val Brevenna per cui con noi molto affezionato, in particolar modo a mio padre. È stato un modello fondamentale perché è stata una delle prime testate giornalistiche italiane specializzate nel settore dello shipping, ad avere una propria rivista anche tradotta in inglese per cui è stato un pioniere nel giornalismo peculiare come è quello dello shipping. Testate come questa poi ce ne sono state altre in Italia ma lui, devo dire la verità, ha fatto un ottimo lavoro, durato 20 anni e che durerà ancora certamente. Eventi ce ne sono ma eventi belli come questo no, devo dire la verità ed è piacevole perché si incontrano amici, si incontrano clienti, si incontrano conoscenti che magari non si ha veramente la possibilità di potersi incontrare negli anni, nei periodi precedenti, questo sì.